Dal basket passiamo alla pallavolo femminile, Scandicci supera a Roma 3-2 e si porta al secondo posto in classifica negli altri anticipi del sabato. Vittorie per Vallefoglia e Novara in attesa delle gare di oggi. Sentiamo Marco Fantasia. Cuore Roma, rimonta 2-7 a Scandicci, perde al quinto ma conquista un punto che fa morale e classifica contro una delle favorite del campionato. Le romane possono giocarsi fino all'ultima giornata di andata, le chance di entrare tra le otto che disputeranno i quarti di Coppa Italia. Con questi due punti Scandicci scavalca Milano al secondo posto in attesa delle partite di oggi. Un bel passo avanti verso la qualificazione in Coppa lo ha fatto Vallefoglia che a Pesaro ha superato Casalmaggiore 3-0. Primo set e avvio di secondo lisci per le marchigiane, poi Casalmaggiore è finalmente entrata in partita. L'impegno però non è bastato alla squadra di Musso almeno per allungare il match. MVP l'alzatrice olandese Dijkma, ma ottima partita anche della centrale serba Alexic. Casalmaggiore sempre un punto sopra la zona retrocessione. Nel terzo anticipo del sabato infatti netta vittoria di Novara su Bergamo in trasferta. Le piemontesi consolidano il quarto posto, Lombarde sempre penultime. Oggi in campo Firenze-Milano, Pinerolo-Conegliano, Chieri-Cuneo e Busto-Trento con diretta su Resport. Per le padrone di casa la possibilità di staccarsi in maniera forse definitiva dalle zone pericolose della graduatoria. Mentre per Trento, ultima è staccata, siamo alle ultime chiamate per provare a inseguire ancora la salvezza.